Greta e Sergio sono una delle coppie nate all'interno della casa del grande fratello L'ex GFina dopo diversi giorni di silenzio, ha deciso di condividere con i fan un lungo sfogo in cui spiega come stanno attualmente le cose Al grande fratello è sempre più comune seguire la nascita di nuove storie d'amore I mesi nel reality sono tanti e i protagonisti giorno dopo giorno imparano a conoscersi a fondo Greta è entrata come fidanzata di Mirko Grunetti. I due si sono conosciuti a Temptation Island, e dopo la fine del programma hanno deciso di abbandonare il villaggio insieme Alcuni mesi sembravano dimostrare un sentimento lampante tra loro, le cose sono poi cambiate all'improvviso Mirko ha fatto pace con Perla e Greta ha deciso di ripartire da capo al fianco di Sergio Quest'ultimo è entrato nella casa attirando l'attenzione della Rossetti Nelle ultime settimane di programma il loro rapporto si è notevolmente intensificato, ed una volta usciti i due si sono vissuti al meglio La fine del grande fratello comporta per i concorrenti un momento di grande scombussolamento Ritornare alla routine non è mai facile, specie dopo mesi di reality Grande fratello, Greta e Sergio esse i sono lasciati? Lei mette le cose in chiaro Tutto sembrava proseguire a gonfie vele, Greta ha spesso postato in queste settimane momenti felici insieme al suo nuovo fidanzato Sergio le stava dimostrando attenzioni e grande coinvolgimento, quello che le serviva dopo la fine della relazione con Mirko Da qualche giorno però le cose sono cambiate improvvisamente Greta ha anche partecipato ad un party esclusivo in compagnia di tutti gli altri concorrenti, senza Sergio I fan hanno iniziato a chiedere in modo frequente notizie in merito ad una possibile crisi La Rossetti ha condiviso per questo un lungo sfogo in cui ha in parte spiegato come stanno le cose Non è stata confermata al momento nessuna rottura ma Greta ci ha tenuto a sottolineare che in questo momento entrambi vorrebbero ricevere la giusta privacy da parte dei fan, consapevoli però di essere una coppia nata sotto le telecamere Dalle parole dell'ex concorrente, una reale crisi appare evidente, la distanza e l'assenza di Sergio nelle sue storie era un chiaro indizio Sarà anche questa per Greta una delusione da dover digerire? Dopo la rottura con Mirko, questo poteva rappresentare un nuovo amore, fresco ed in grado di stravolgerle la vita C'è da dire però che all'interno della casa, emozioni e sensazioni sono notevolmente amplificate Solo il tempo potrà dimostrare se il loro amore reggerà il peso della normalità Grazie a tutti